Il tricolore di campione italiano, l'oro di campione olimpico e l'iride di campione del mondo sono le scarpe di Paolo Bettini prodotte da Sidi. Allora questa scarpa ha la suola interamente in carbonio, ha il tallone regolabile, ha la leva e il sistema di chiusura Tecno 2 che sono brevettate da Sidi. Questa è una personalizzazione che noi facciamo per Paolo Bettini esclusivamente, comunque disponibile in 5 colori e nelle taglie dalla 39 alla 48.